L'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a creare tensioni nella maggioranza di governo Punto soprattutto dopo la lettera firmata dal ministro dell'Interno e pubblicata sul Corriere della Sera, in cui il segretario della Lega, difende il suo operato, e chiede che il processo non sia fatto Un cambio di linea improvviso che spiazza gli alleati 5S Ad Agora, su RAI3, il deputato pentastellato ed ex giornalista Sky Emilio Carelli afferma Dopo le ultime posizioni di Salvini, le condizioni sono cambiate Nel Movimento 5 Stelle esiste una prassi, si vota sia l'autorizzazione a procedere Punto ma quella della Diciotti, è stata una decisione collegiale che ha investito tutto il governo Credo che Conte, e Di Maio dovrebbero autodenunciarsi Nel Movimento va riaperta la discussione? Dobbiamo riflettere bene se votare sì o no all'autorizzazione per Salvini, conclude Carelli E a conferma delle fibrillazioni nel Movimento arriva anche la presa di posizione del Ministro Danilo Toninelli Io sono come Ministro dei Trasporti responsabile della navigazione, fino alla Tracco Salvini è responsabile della sicurezza sulla terraferma Sulla Diciotti la decisione la abbiamo presa insieme, io, lui, il Presidente del Consiglio e tutto il governo del Parlamento Se processano Salvini devono processare anche me e tutto il governo Punto se vogliono farlo diventare un processo al governo ci siamo tutti Così il Ministro Mattino 5.Virgolette è evidente che Salvini abbia cambiato idea o almeno il suo avvocato Afferma R.A.D.I.O.A.1.R.A.I. Il sottosegretario agli esteri Maglio Di Stefano Noi M5S lavoriamo con coerenza, e abbiamo sempre dato l'autorizzazione a procedere, detto questo Conte, e Di Maio, hanno detto chiaramente che sono dispostissimi a farsi processare insieme, credo che debbano essere parte del processo perché sono scelte collegiali di tutto governo